Il Signore 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 Tu che togli i peccati da noi, accorgo la vostra sua vita, in che sia la testa del Padre, accorgo la vostra sua vita. Perché tu sorsi, Santa, tu sorsi, 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 con lo Spirito Santo e la tua vita. Preghiamo. O Dio, credo che il Padre di Dio, donaci il tuo Spirito, perché nessuno di noi a Dio, a Dio, a Dio, a Dio, a Dio, a Dio, non fai riconoscendo il Dio di Dio, la dignità dei tuoi figli, non solo a Dio, ma con le ombre, ci dimostriamo, ma di Twoty, a Dio, a Dio, a Dio, a Dio, a Dio, a Dio, Amen. 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 Amen.